Ciao a tutti ragazzi bentornati siamo di nuovo su RimWorld, nello scorso episodio tanti raid e ci siamo accorti che effettivamente le mura e lo spazio aperto da solo non bastano per difenderci e quindi ho iniziato a costruire un perimetro di torrette mitragliatrici che teoricamente dovrebbero darmi un bel supporto durante il prossimo attacco. Allora vedo che Maker ha già iniziato a piazzare le mura, qui dobbiamo iniziare ad ampliare il nostro perimetro del nostro magazzino, dopodiché Vitos che cosa sta facendo? Sta seminando l'area, Blackout sta mangiando, Stomp sta mangiando, Anza sta cucinando e Zippy sta andando a mangiare dopo che praticamente, eh c'è poverina c'è rimasta un po' male, Kibble e Kibble, il Kibble non va fatto in teoria. Non so perché ne abbiamo così tanto ma, boh, una cosa che potrebbe fare Stomp anziché mangiare sempre, gli facciamo decostruire queste bellissime, perfetto. Esatto, e adesso facciamo Floor, Wooden Floor e Ordini Stockpile Zone nuova. In questo caso abbiamo finalmente la possibilità di portare, di avere un po' di cibo in più, ok? Gorda è stato attaccato da... un lupo artico, no, no, cazzo, no, ho bisogno di qualcuno che mi può attaccare il lupo, come è fatto ad entrare questo lupo, merda? Nooo, poverina, è una cagnolina, è la mia labrador, Gorda. Ok, per fortuna che è riuscita a scappare, bravissima. Adesso Maker ti fa un culo grosso così brutto, schifoso, lupo artico. Eh, ma guarda un po', eh? Fa male il laser. Gorda però, cazzo, sta attenta. Ok, è andata. È andata. Iniziamo a sistemare il nuovo magazzino, ragazzi, dai. Intanto, vabbè, qui abbiamo sempre il cimitero che si sta ampliando. Forse ho fatto un errore, avrei dovuto costruire un cimitero vicino ai cadavri e non portare i cadavri così lontano, ma... Stiamo semplicemente perdendo tempo. E nel frattempo, invece, il nostro buon Maker sta portando tutto l'acciaio che abbiamo appena recuperato alle torrette. Però, per adesso, abbiamo, quindi, due torrette a sud, abbiamo una torretta a est, due torrette a est, però senza la linea... La linea che ci serve per... Ma scusate, però... Zipi deve andare a mangiare. Perché non puoi avere malnutrition. Ci manca la linea di... 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 Di power, di elettricità. Ok, qui abbiamo abbastanza componenti. Quindi, secondo me abbiamo recuperato tutto il materiale che ci serve, in realtà. No, perché non abbiamo più acciaio. Continuiamo a praticamente utilizzare quello che andiamo a minare. Qui c'è un lupo morto. Qui però c'è acciaio. Non basta. Comunque, una cosa che si sta facendo sempre più pressante ed importante è la ricerca. Perché mi sono fermato con la ricerca, ma... È importantissima. Anche perché, prima o poi finirò l'acciaio. Avrò bisogno, prima del melting, cioè... Dovrò creare una... Un laboratorio in cui fondo il metallo... Delle parti distrutte, eccetera. Per avere un nuovo acciaio. E poi il deep drilling. Costituire le trivelle per estrarlo dal... Dal suolo. Anche perché sulla mappa non ho molte colline. E sì, è vero, ho molte risorse per ora, ma in futuro finiranno. Intanto, ragazzi, il 10 di dicembre vedo dei... Dei maffalo che stanno arrivando. Strana questa cosa. Di solito i maffalo non si vedono d'inverno, ma meglio così. E anche degli arieti, no? Interessante, veramente. Iniziano ad arrivare gli animali. Stranissimo. Va bene. Lasciamo che ognuno dei miei faccia il suo compito. Zippy. Ok, costruisce la linea. Stomp cucina. Blackout in miniera. Vitos. Anche in questo caso, cucinare e... Spostare oggetti. Fare pulizie, eccetera. E Maker, il nostro genio, sta in miniera e a spostare acciaio. Per costruire poi le torrette. Quante ne mancano? Qui direi che due per adesso basta e ne avanzano, però... Qui abbiamo una terza, quindi una. Due torrette. Tre, quattro. Cinque. Perfetto. Mancano cinque torrette. Intanto vedete quanti cadavri che ci sono, mamma mia. Niente, teoricamente io non dovrei dare più di alcun ordine, perché... Pfff. C'è anche l'ordine di espandere la zona soggiorno. Ma finché non finiscono le attività prioritarie non si può fare nulla, dai. Non appena terminiamo questa cinta di difesa, però veramente mi dedico alla ricerca e a rendere la zona all'interno del recinto bella. Nel senso che la voglio pavimentare, la voglio rendere decente da vivere. Questa struttura strana, con porte strane, con pochi accessi e... Sì, non ha molto senso. Magari qui potrei fare un corridoio, non evitare che la gente passi all'esterno. Uh, intanto ci sono dei commercianti. Visto che ho moltissima carne. Quando dico moltissima, intendo moltissima proprio. Ho anche moltissimo clothing, cotone. Potrei provare a vendere, questa volta, oggetti. Cotone, cibo, eccetera. Visto che adesso ne posso produrre di più. E in questo modo, con l'argento, potrei magari comprare medicine. Potrei costruire una sala delle comunicazioni per iniziare a fare del trade. Chi lo sa. Stomp ha il solito setting social, zipia 1. Quindi sarà Stomp, colui che andrà a fare la trattativa. Vediamo tutto il keyboard che non ci serve un cazzo. La carne costa troppo poco, non la vendiamo. Cioè, ce la vendo al triplo, ma andate a quel paese. Potrei vendere il mais, che ne ho veramente tantissimo. Potrei vendere 875 pezzi di mais in cambio di argento. Perché no? Visto che comunque lo sto coltivando sempre e ne ho tanto. Quindi posso permettermelo. E posso vendere anche il cloth. Non tutto, magari, però facciamo meno 500. 1200, ok. Che cosa posso comprare? Posso comprare una t-shirt in Davidson? No, non mi interessa. Nel metto in plastil, wow. Non posso comprare molta roba. Il cioccolato. Il cioccolato che cazzo serve, scusate? Ah, aumenta la gioia. Neutramine a cosa serve? Come questo serve per fare le medicine? Compriamone un po'. Tipo 30... Compriamone finché non arriviamo a 870. Ecco, così. Così il resto lo prendiamo in argento. Perfetto. Adesso i nostri porteranno nel magazzino la nuova roba che abbiamo ottenuto. E lasciamo che la colonia vada avanti un po' come... Come ci aspettavamo. Ok. Qui intanto abbiamo chiuso la zona esterna tra sala della ricerca e la stanza di Vitus e Zippy. Quindi non ci si può più accedere dall'esterno, ma si accede dalla sala della ricerca. E secondo me va bene. Intanto qui continuiamo ad avere cibo. Vedete che non abbiamo più il mais all'interno, ma ce l'abbiamo qua. Ok, Blackout ha ancora tantissime miniere di acciaio da minare. Credo che finite queste e poi non avrò più necessità di recuperare molto acciaio. Penso. Finiti questi ordini intendo. Ok. Lolling ci si mette veramente una vita, ma... Fatemi dare un'occhiata. Ok, stiamo guardando se la registrazione era partita. Non vi chiedo scusa. Intanto a torrette direi che siamo quasi pronti tranne a est. A sud siamo a best... Allora, a ove siamo messi molto bene. A nord siamo messi molto bene. A nord a est male. E a est male. A sud a est male. Quindi manca tutta la parte est. Sia costruzione dei power conduit, sia... Eh, intanto però vedete che è una cosa. Le batterie iniziano ad essere problematiche. Le batterie iniziano ad essere problematiche. Potrei pensare di costruire altri pannelli solari. Ok. Costruiamo altri due pannelli solari perché dobbiamo mantenere tutte queste torrette e le voglio mantenere... ...spesso attive. Abbiamo un dungeon danger dove? Ah, qui dietro. Qui dietro probabilmente c'è una sala con dei nemici o qualcosa del genere. Kaiser a sud non ne vedo. E a nord sono 1, 2, 3. Potrei utilizzarli, effettivamente, ma... ...abbastanza noioso. E poi se i nemici mi attaccano alla nord li fanno subito saltare. No, direi di no. Fatemi dare un'occhiata alle risorse. Allora, abbiamo... ...quante risorse... ...allora, acciaio 0. Fantastico. Componenti 0. Giusto? Che sbatti, ragazzi. Abbiamo bisogno di tanti, tanti, tanti componenti. Ah, che meraviglia. Per fortuna. ...e anche qui componenti. Va bene. Eh, niente, andate avanti a lavorare così. Tutti che trasportano, tutti che scavano. Praticamente stiamo dedicando completamente questa fase della partita alla produzione e il trasporto dell'acciaio per potenziare le difese. Però poi voglio sfidare i miei nemici a passare qui in mezzo. Ovunque vadano, hanno delle torrette che gli romperanno le palle. Ovunque vadano. E quasi quasi potrei fare uno switch per queste tre torrette qui. Questo switch invece blocca le altre a nord e a nord-est. Mentre per le torrette vicino al geotermal generator lasciamo perdere. Dai, sì, le posso disattivare a mano volendo. Visto che sono poche, ci può stare. E a proposito, visto che per il momento non abbiamo nemici e abbiamo le batterie che stanno iniziando lentamente a scendere, disattiviamo le torrette a nord, in modo che mettiamo da parte un po' di energia. Oh, neutromine, perfetto. Ah, altre 31. Queste con la tecnologia Azusa ci permettono di craftare le medicine e ne ho assolutamente bisogno. Ok, intanto la smoke leaf è il 55, il corno è il 44. Comunque vedete che abbiamo tantissima carne e tantissimo mais per continuare a mangiare, quindi... Ho fatto bene a portarmi a casa un po' di argento per l'ultimo scambio. Ok, nuova mattina. Come sempre aspettiamo di arrivare a buon fine. I raid, come sapete, mi hanno veramente rotto troppo le palle, quindi adesso voglio essere sicuro che in caso di attacco futuro sistemo veramente tutti. Ok, brava Zippy, building grave no, vai a costruire il power switch. Eh, così poi possiamo già... Ah, il power switch però è esatto, eleva anche la corrente e la prigione. Questo potrebbe essere un problema nel senso che in futuro se avrò prigionieri dovrò tenere le torrette attive altrimenti è un casino. Perfetto. Quanto acciaio abbiamo ancora? Tanto ma lo dobbiamo trasportare. Gorda e lardo potrebbero darci la mano secondo me. Peccato che siano due femmine, se no facciamo le cucciolate e vabbè. Ok, credo che abbiamo costruito tutte le torrette ragazzi. Credo di sì. Togli l'elettricità da questo lato. Sì, abbiamo costruito proprio tutto. E adesso ci stiamo addirittura dedicando i nuovi pannelli solari. Fantastico ragazzi. Semplicemente fantastico. Abbiamo raggiunto il livello di acciaio che ci serviva per proteggerci per bene e per garantire che l'energia elettrica non vada a male. E adesso direi che si deve continuare, da un certo punto di vista, a... Qui, leviamo il granito e aggiungiamo lo slate. Do it until you have... Boh... 1000, 1010, ok. Facciamo i mattoni di slate perché adesso abbiamo molto più slate attorno a casa. Tutti questi blocchi sono di slate. E quindi, chiaramente, in questo modo è anche una scusa per fare pulizia in cortile. E poi, magari creiamo la seconda... Magari possiamo provare a chiudere la cinta muraria. E poi possiamo iniziare a rinforzarla. Però lo facciamo più avanti. Adesso vi dicevo che voglio rendere più bello il nostro... La nostra zona. Dumping zone, dove la mettiamo? Per adesso qui. Ok. Ah, mancano ancora un po' di power conduit. Sì, effettivamente non abbiamo completato tutte e tutte le torrette, però... E i sacchi di sabbia, eccetera, eccetera. Fantastico. Ok. E adesso abbiamo i nostri nuovi due generatori solari. Quindi l'energia pompa tantissimo. Fuori in meno 12 gradi, nell'SR 26-27. Nella nostra abitazione sui 20. Semplicemente perfetto. Michael che cosa deve fare? Costruire le tombe. Ok. Così finalmente possiamo andare a seppellire i cadaveri che abbiamo in giro. E Zippy inizia a portare l'acciaio che... Praticamente mettermi in magazzino. Semplicemente perfetto, ragazzi. È un piccolo capolavoro, secondo me. Adesso abbiamo finalmente vista dall'altra la nostra base. Con il perimetro di pietra e il perimetro di torri e la ricinzione di legno. Direi che... In questo caso siamo abbastanza sicuri che prima che arrivino a noi... devono vederne di belle. Item Stash Opportunity. Non me ne frega niente. Qui devo trovare però un modo di bloccare, di creare dei problemi a chi ha intenzione di passare. Qui potrei costruire un'altra torretta oppure potrei piazzare qualcuno col fucile del cecchino. Dipende un po' da quello che vogliamo fare di volta in volta. Va bene. Iniziamo l'operazione bellezza, allora, ragazzi. Furniture. Floors. Wooden floor. Bam. Operazione bellezza di che cosa si tratta? Niente. Semplicemente andiamo a... A rendere un po' più gradevole la sala da pranzo. E quindi la andiamo ad ampliare. Spostiamo magari la stufa. In una zona più consola. Poi faremo un grande tavolo in cui possono sedersi otto persone. E per il resto vasi di fiori e opere d'arte. Non ho ancora iniziato a fare opere d'arte, ma presto lo faremo. Ah, un'altra cosa che ho dimenticato. Stockpile. La alziamo fino a qui. In questo modo abbiamo un magazzino un po' più grande. E questo mi servirà più avanti. Non subito, ma più avanti. Intanto posso distruggere, ragazzi, il generatore a legna. Assolutamente. In questo modo riesco ad aumentare ancora di più la dimensione del magazzino. Praticamente inglobiamo la sala delle batterie nel magazzino. Tutto qua. Ma... Si può decisamente fare. Perfetto. Ok, le batterie stanno crescendo. Direi di sì. Direi di sì. Perché di giorno i pannelli solari le pompano. Ottimo. Riconnetti. Puttiamo giù queste cose schifose. E... In questo modo facciamo tutto il giro, così siamo sicuri che non ci sono problemi. Perfetto. Avanti, dai. Purniture. Tavolo lungo. Uno. Questo lo eliminiamo. Sedie. Tendiamo a reinstallare. Perfetto. E qui creiamo delle coppie. Molto bene. Questo tavolo lo andiamo a reinstallare... Nella prigione. Dove magari andiamo anche a costruire... Ah, facciamo una sedia per la pranzo, dai. Non lo scavello. Ok, perfetto. Quindi a questo punto abbiamo la necessità di costruire i nostri vasi da fiori in modo che l'ambiente sia più carino. E c'è un raid. Fermi tutti. Fermi tutti. Intanto che stavamo migliorando questa zona, ovviamente ci rompono le palle. Sono... Due, tre, sei, nove. Ok, ci sono dieci raider. Arrivano dal sud. A sud fortunatamente le torrette sono tutte attive. Però noi andiamo ad attivare le torrette ovunque. Voglio che tutte siano attive, ragazzi. E sono curioso di capire dove attaccheranno. Intanto è iniziata la primavera, ragazzi. Ragazzi, abbiamo superato un altro inverno questa volta, però in modo molto, molto, molto meglio rispetto alla prima volta, eh. Perché la serra ci ha aiutato tantissimo le difese, ma poi abbiamo cinque uomini. Che cosa si è rotto? Un heater dove? Vale ad aggiustare zippe. Vale ad aggiustare zippe. E soprattutto stockpile zone, più alta. Ok. Togliamo la pausa. Vediamo dove vogliono attaccare. Voglio anche vedere che tipo di armi hanno. Sono ottime armi in realtà. Sono ottime armi. Anche se non sono i top del top, possono fare tantissimo danno. Quindi è assolutamente necessario che il nemico si scontri contro le torrette, ovunque voglia entrare. Quindi se vuole fare il giro e attaccare da nord, si prenderanno le prime torrette. Ok. Vediamo che cosa dicono. Moving. Ah, 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 me le attacca. Wooden wall. Wooden wall. Quindi se vogliono attaccare il muro di legna, vuol dire che vogliono fare il giro, ragazzi. Lo vediamo. Scopriamo subito. Sembra che facciano il giro, signori. Sono idioti. Veramente sono idioti. Drafting su tutti i miei uomini. Mi portiamo fuori. Allora, blackout. Io lo metterei dietro a un albero che quando questi arrivano è già in posizione. Stomp per il momento niente. Maker dietro al muro. Dove cazzo è zippy? Zippy si mette vicino al stompe a difenderlo. Chi manca? Vitos. Con la mitragliatrice si mette dietro al muro. E adesso aspettiamo che il nemico arrivi. Quindi abbiamo praticamente tre torrette e i nostri che fanno il comitato di benvenuto. Spero che i cani però rimangano indietro. Non voglio dare l'ordine di attaccare. Buono. Buck dura pochissimo, secondo me. Però il problema, ragazzi, è che devo tenere il cecchino probabilmente dietro la torretta. Cambio. Maker non attacca più, ma utilizziamo stomp con la granata. Ok, perfetto. Spostiamoci dietro i sacchi. Tranne stomp. Anzi, anche stomp. Veloci. Voglio che intanto le torrette facciano tutto il lavoro sporco. Ok, i nemici stanno fuggendo. Maker si è preso soltanto un proiettile nel torso. Quindi adesso la cosa che fa è andare a dormire. Zippy. Tolta la recluta. Torna, non so a fare cosa. E ragazzi, che botte. Mamma mia. Mamma mia se il sistema funziona. Anche se avessero sfondato da qualsiasi altro lato, sapete, sarebbero morti comunque. Va bene. Grave. A questo punto non ho assolutamente intenzione di perdere tempo scavando tombe lontanissime. No, non voglio neanche reclutare nessuno. Perfetto. Maker Junior è a letto. Ah, una pistolettata. Zippy magari gli deve dare una mano. Lo va a curare. Non so se Zippy possa pulire, però sarebbe veramente prioritario, visto che c'è moltissimo sangue nell'infermeria. E la cosa non è molto igienica, forse. Allora, vediamo che cosa abbiamo recuperato. Droghe, droghe, armi. Insomma, le solite cose che hanno i raider. Ok, possiamo togliere l'energia a questo punto dalle altre torrette, in modo che non ci siano troppi problemi. E che figata ragazzi. Il primo comitato di benvenuto è andato veramente a buon fine. Veramente, veramente bene. Ah, e abbiamo la Smokeleaf. Quindi possiamo iniziare a dare l'ordine di crafting. Make joint until you have ten. Perfetto. Quindi faremo le sigarette speciali di Smokeleaf. E ne teremo sempre dieci. In caso di necessità. Animale impazzito, non me ne frega niente. Un cinghiale. Ok. Guardate quanto dura. Zippy si è messa tra le torrette e il cinghiale. Si è fatta menare. Stupidissima. Perché ho dato l'ordine di attaccare quando vedo un nemico. Colpa mia. Vai, resting. Beh, buona cosa. Magari Maker può, anziché pulire, potrebbe andare, sì, anziché dormire, potrebbe pulire il sangue. Ma è troppo tardi, ok. Va bene. Va bene, ragazzi. E anche questo giorno è passato. E questa volta, però, le difese vanno davvero, davvero, davvero bene. Fantastico. Perché il nemico che cosa pensa? Il nemico pensa, ok, se arrivo da sud, devo buttare giù il muro e poi trovarmi le torrette. A questo punto passo direttamente a nord, ma a nord ci sono comunque le torrette di benvenuto, che sono tre. E poi ci sono altre tre torrette più lontane. Insomma, ottimo. Una cosa qui non ho pensato potrebbe essere quella di aumentare i sacchi in modo da mettere i miei uomini proprio qui dietro. In modo che possano sparare senza essere attaccati. E magari facciamo anche così, nel caso in cui poi venissero affiancati. Ottimo. I cadavri sono spariti, però non li hanno messi nelle tombe, li hanno messi nel cestino, ok. Le due scatole. Chiaramente non mi metto a seppellire così lontano. Facciamo un nuovo cimitero a nord. Chi si è visto, si è visto. Va bene. Intanto anche la prigione l'abbiamo sistemata. Dovremmo ampliarla. Dovremmo rendere la prigione un po' più grande, ragazzi. Oh, perfetto. All'indomani del raid si mettono i cadaveri dove dovrebbero stare e iniziamo a dare un nuovo ordine che è quello di ampliare la cucina. Quindi qui chiudiamo, poi apriamo qua e poi cambiamo l'ordine del magazzino dicendo, ok, adesso qui soltanto cibo e teniamo il condizionatore alto. In questo modo riusciamo a immagazzinare sicuramente più cibo e visto che adesso dovrebbero arrivare i primi animali e iniziamo anche a cacciare. Ah, questo cos'è? Kibble? No, non mi va. Assolutamente. Oh, merda. Ragazzi, maker, vitos, zippi si sono tutti incastrati qui dentro. Ok. Quindi adesso diciamo zone cancella questa zona. Stop by. Perfetto. E adesso la cucina è più grande. In cucina adesso ci sono vestiti, erbe, eccetera, però con calma. Ah, ho sbagliato. Ho fatto il magazzino metà di legno e metà di cemento. Pazienza però. Adesso iniziamo a spostare tutti i vari oggetti e sinceriamoci che qui dentro ci sia sempre meno di un grado. Ottimo. E un'altra cosa che posso fare è andiamo ad ampliare qui la stockpile zone. In medicina e erba. Un po' ovunque. Perfetto. È stata una giornata molto produttiva, no? Allora, iniziamo a buttare via questo schifo. Questa era un tempo una zona di stockpile. La cancelliamo. Quanto abbiamo? Abbiamo 212 pezzi di granito. Ok. Questo costa 4, questo pure. costa troppo pavimentare tutto. Però dobbiamo iniziare. Semplicemente perché è più bello. Ok, quindi l'esterno sarà bello. Poi magari pavimentiamo anche l'interno della nostra... Oppure facciamo una cosa. Iniziamo dall'interno. Per il semplice fatto che pavimentare l'esterno è inutile perché gli uomini ci rimangono meno. Mentre se pavimentiamo l'interno la bellezza dovrebbe risaltare di più. Ho abbastanza legna. Sì, mille. Wow. 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 Che meraviglia vedere di lavorare così. È veramente fantastico. Davvero. Oh, che bello. Guardate la zona soggiorna adesso con tutte le piastrelle di pietra che ovviamente creano molta bellezza con i fiori. Questo sicuramente rende i miei abbastanza felici. sì, dobbiamo levare tutto il il parquet e stomp deve continuare a produrre. No. Ok. Perfetto. Sì, c'è una cosa che va detta. È molto bella però il sangue non è che sia fantastico. Bisognerebbe anche pulire. Andiamo a dare delle priorità sul cleaning a tutti. Alziamole. Che di solito la gente non pulisce mai. Wow. Ah, perfetto. Intanto abbiamo qui sistemato la nostra zona difensiva. devo levare gli alberi perché se no non riesco a posizionare bene i miei uomini. Comunque in generale li metterò in questa zona quando attaccano la nord e poi quando i nemici cercano di passare qui sopra li spostiamo interni e li teniamo coperti anche internamente. Questa è la mia idea. Teoria qui ci starebbe ancora per essere simmetrici. 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ok, perfetto. Cargo pods. Andiamo a vedere. Mega slot wool. non è tanta roba non è tantissima però è gratis quindi. E attenzione signori perché la stiamo finendo l'energia. Ma la stiamo finendo di brutto proprio. Quindi I stomp cazzo. Flicking on full generator e ah non fa mai hauling. niente svegliamo zippy ce la portare la legna nel generatore d'emergenza perché bisogna iniziare a produrre più energia ragazzi. Major break risk chi? Ah lo sappiamo adesso stomp che problema ha adesso? boh è impazzito ah no no veramente haio iaio praticamente si sta drogando ok sì abbiamo diverse droghe nell'infermeria ma non sapevo che fosse così chemical fascination ok e ignora le direttive che dicono di non drogarsi ok quindi praticamente adesso si sta facendo fuori tutte le scorte di iaio io dico a maker di finire l'ultima perché altrimenti se se la prende ancora stomp poi schiatta di overdose e quindi invece se la usa maker visto che non usa mai droghe poi dovrebbe essere abbastanza buona come cosa tanto stiamo costruendo ancora le nostre i nostri joint no il problema grosso è che comunque nonostante il sole nonostante l'energia abbiamo le batterie a terra è chiaro che c'è la necessità ah ecco perché scusate abbiamo tutte le torrette attive anche a nord no disattiviamole perché consumano tantissimo ok stomp in overdose merda ok dopo questo raid è stato veramente brutto perché i raider avevano le droghe adesso stomp è diventato dipendente da droghe e non ne abbiamo più merda però adesso sta ricercando come un pazzo ok interessante qual'era la storia che maker non si droga mai no in realtà adesso dopo essersi drogato con lo iaio si è fumato anche una canna ok va bene non è un grosso problema direi bellissima bellissima comunque la sala da pranzo ragazzi mi piace molto molto col fornello il tavolo e la cuccia del cane ovviamente calda no? 19 gradi perfetto non vedo l'ora di avere il machining per poter utilizzare per poter costruire delle mitragliatrici grosse così contro i nostri amici stomp anche se sono all'età di mattina ha il morale a palla e sta continuando a craftare a craftare delle pietre perché non utilizza queste scusa? ah perché questo è slate ok lui sta utilizzando invece il granito ok chiaro allora adesso diciamo che vedo che con le torrette disattivate le batterie salgono soprattutto di giorno quando i pannelli solari creano un po' di di energia in più però non mi basta non mi basta quindi credo che costirò qualche nuovo pannello appena possibile ok stomp adesso è in overdose di canne ragazzi inizio ad avere paura e a temere che stomp sarà un problema psychic addiction stoned on smoke leaf praticamente non so quante se ne sia fatte però è di nuovo impazzito potrei cercare tipo di o di arrestarlo chiuderlo in prigione però ad ora in poi inizierà a diventare molto problematico infatti continua a fumare canne non ci avevo pensato che io ci provo anche vito sa la chemical fascination no drugs no drugs quindi prendete zippy e maker posso sapete no zippy è di totale ok sapete cosa facciamo smettiamo di costruire smettiamo di fare i joint perché non non li usa nessuno cioè non servono a nessuno ho fatto un grosso errore qui con la smoke leaf plant cambiamo assolutamente in qualcosa di diverso ho plant per la birra no grazie se potessi fare il david's trend sarebbe fantastico ma non si può fragole fragole per avere più cibo dai basta punto perché non ha assolutamente senso che ho due persone con la social con la chemical fascination rischiano di andarci sotto veramente pesante considerando che anche se dico a loro no drugs questi se le fanno lo stesso no la penicilina la tengo le canne invece no e adesso a temperatura facciamo un campfire qui fuori le bruciamo ok ok perfetto niente riempio tutto qui perché voglio che diventi un po' una specie di cortile interno e che faccia anche la taglia fuoco come vi avevo detto precedentemente quindi stiamo parlando di slate quindi qui diamo la priorità allo slate e non al granito vai bene quindi pian piano adesso il mio obiettivo tanto la neve si sta sciogliendo è quello di ok la neve si sta sciogliendo è del 6 di apremay questo vuol dire un'altra cosa importante che probabilmente potremmo smettere di utilizzare la serra per la prima vera estate bills burn drugs do it forever maker vediamo se funziona no cazzo mi sta bruciando la penicillina ragazzi lo so che effettivamente effettivamente la penicillina è una droga ma è medica sono un coglione va bene blackout brucia tutta la droga che abbiamo prima che sia troppo tardi e basta la prossima volta mi faccio più furbo è stata colpa mia ce n'è ancora uno vai chiudi e adesso poi il fuoco si decostruirà da solo che peccato slate chunk ok sempre slate quello che ci serve slate flagstone perfetto no no non qui dentro cazzo ottimo allora praticamente facendo così papimentiamo la zona all'interno della staccionata la rendiamo più carina però ragazzi sta sta nevicando no no c'è vento chi è in starvation stomp perché in starvation ha il ha la crisi d'astinenza da sostanze psicotiche quindi è rincoglionito è stanco è malnutrito non ci posso fare nulla l'unica cosa che posso fare è ucciderlo oppure tenerlo così come ce l'ho e quindi lo tengo così ok va bene allora adesso credo che non ci siano moltissime altre priorità assolute e vitali nel senso che le difese ci sono la colonia ha la sua fonte di cibo l'energia sta andando abbastanza bene perché comunque anche con le lampade attive d'estate e se spengo le torrette riesco a riempire le mie batterie quindi non ho la necessità di fare molto altro adesso ho praticamente sette pannelli solari e due centrali geotermiche e una centrale a legna meglio di così non si poteva chiedere e direi che questo possa bastare che cosa facciamo nel prossimo episodio mental break days e indovina chi nel prossimo episodio ragazzi non lo so ma devo riflettere mi piacerebbe a questo punto creare un laboratorio veramente grande in cui ci sono magari due tavoli da ricerca avanzati e non soltanto uno e iniziare a dare la priorità alla ricerca in modo che la colonia che adesso è stata un pochino sulla tema sopravvivenza adesso che abbiamo passato due inverni si prepara il terzo inverno diventando però tosta cioè adesso è difesa abbiamo tutto la trasformiamo in qualcosa di più bello da vedere ma anche un po' più strutturato sto pensando veramente a cosa fare ma secondo me dovremmo iniziare a costruirci delle armature e delle armi per sfidare gli amici più cattivi non lo so poi tanta roba tanta carne al fuoco rendere sicuramente esteticamente più bella più belle le stanze creare una seconda stanza perché Blackout e Vito Storm Zippy e Vito Storm insieme e quindi come si fa? beh abbastanza semplice da questo punto di vista la staccionata la potrei rompere e potrei quindi espandere la staccionata in questa zona in modo che qui si creino più cioè si allarghi la zona interna della colonia in cui posso creare il nuovo grande laboratorio scientifico però lo vediamo nel prossimo episodio perché questo è durato tantissimo quindi io vi ringrazio per essere rimasti con me spero che il video vi sia piaciuto e vi do appuntamento alla prossima